Buongiorno ragazzi, come state? Spero abbiate passato delle belle giornate, il weekend si è nato tutto bene, vi siete un po' riposati dalla scuola a distanza. Allora, riprendiamo il nostro percorso di epica che avevamo lasciato con l'inizio dell'Iliade e andiamo subito alla fine. Noi vedremo tre testi dell'Iliade, tre testi. Andiamo alla conclusione, a pagina 116. Sul primo testo io non vi ho spiegato nulla su YouTube, cioè streaming volevo dire, vi ho spiegato solamente quelle cose che mi avete chiesto, se ci fosse bisogno di qualche cosa ovviamente ci fermiamo e ci ragioniamo e ne riparliamo insieme, anche perché sull'Iliade noi faremo sicuramente l'interrogazione nella seconda parte del mese di aprile. Faremo sul zoom delle interrogazioni e parleremo, cioè si sarà in programma all'Iliade. Poi questa settimana incominceremo invece l'ultimo grande argomento che faremo di italiano, di antologia, che è la poesia e la canzone. Sono gli ultimi due grandi argomenti che faremo e ci accompagneranno per tutto il mese di aprile e per tutto il mese di maggio. Per cui andremo avanti il nostro percorso di grammatica, andremo avanti a leggere Harry Potter, ma soprattutto faremo la canzone e la poesia, che saranno i due grandi argomenti di cui parleremo nel mese di aprile e nel mese di maggio, e intanto andremo avanti a fare le opere dell'epica, per cui faremo l'Odissea e faremo l'Eneide. Però adesso appunto dobbiamo finire prima l'Iliade con gli ultimi due passi che vi voglio proporre. Uno ve lo propongo oggi e l'altro ve lo proporò sempre in settimana, così chiudiamo l'Iliade. Allora, il passo di oggi si trova a pagina 116 e si chiama La morte di Patroclo. Siamo nel canto sedicesimo. Allora, innanzitutto, vedete, trovate questa espressione canto sedici. Perché? Perché? Beh, perché i poemetici si dividono o in libri o in canti. Diciamo che i canti sono praticamente dei capitoli. È un modo di dividere dell'epica per dividere la storia in diversi momenti. È un modo che è presente in tante opere antiche, ma non in opere moderne. Per esempio, nel Signore degli Anelli questa cosa non c'era. In Harry Potter non c'era. Signore degli Anelli e Harry Potter sono opere moderne. Nel caso invece dell'Eliade e dell'Odissea abbiamo i canti. Siamo nel canto numero sedici, quindi siamo verso la fine dell'Eliade. Vediamo cosa succede. Quello che succede in mezzo è molto complicato. Io ve l'ho lasciato un attimo perdere, però mi interessa che sappiate di che cosa parla l'Eliade, quali sono i due schieramenti, chi combatte contro chi, chi sono i protagonisti, chi sono gli dèi, queste cose di cui vi ho già parlato. Vediamo un po' alla fine. Da quando Achille, sto leggendo, da quando Achille, offeso da Agamennone, si è ritirato dalla guerra, episodio che abbiamo letto, vi ricordate, i troiani hanno preso il sopravvento e guidati da Ettore hanno attaccato il campo greco. Dove erano porti in secca sulla riva le navi greche. Di fronte a una situazione così grave, con i greci in estrema difficoltà, Patroclo decide di indoss... Attenzione ragazzi, questo è una cosa molto importante, un elemento molto molto importante. Patroclo fa un trucco. Decide di indossare le armi di Achille e di scendere in battaglia, cioè di andare a combattere. In questo modo i compagni, pensando che il forte eroe greco, cioè Achille, fosse di nuovo in campo, avrebbero ritrovato il coraggio, mentre i nemici si sarebbero sentiti scoraggiati. Cioè, se vedevano Achille, i nemici si spaventavano fondamentalmente, mentre invece i suoi compagni sarebbero stati molto molto felici. Dopo i primi successi, però, il destino attende anche Patroclo. Per lui è arrivata l'ultima ora. L'episodio, fondamentale nel poema, segna una svolta decisiva. Patroclo e Achille erano legati da intime amicizie sin dall'infanzia. Per questa ragione, la morte del primo spingerà al secondo a riprendere la lotta per vendicare l'amico. Visto che muore Patroclo, Achille deciderà di riprendere a combattere. Per cui capite, siamo in un momento fondamentale. Achille riprenderà a combattere solo e soltanto perché muore Patroclo. Per cui vediamo questa descrizione e come è descritta la morte di Patroclo. Finché il sole si trovava nel suo giro in mezzo al cielo, da entrambe le parti volavano i proiettili. Si sparava. E uomini cadevano. Ma quando passava di là, verso l'ora di sciogliere i buoi del gioco, allora gli archei, contro il volere del fato, avevano sopravvento. Ecco, trassero fuori dai tiri l'eroe Cebrione. Vedete chi è l'eroe Cebrione? È un eroe troiano, fa parte del gruppo dei troiani, figlio di Priamo. Lontano dal fracasso della mischia, gli tossero di dosso l'armatura. Patroclo saltava con feroce risolutezza in mezzo ai troiani. Cosa vuol dire con feroce risolutezza? Saltava molto felice, molto pronto, molto pronto a combattere. Tre volte allora li attaccò, simile all'impetuoso Ares. Ares è Marte, il dio della guerra, per cui li attacca. Se li attacca come il dio della guerra, li attacca in modo molto forte. Con un urlo terribile, per tre volte uccise nuove guerrieri. Immaginiamoci Patroclo che va contro i troiani e urla, come fa il dio della guerra, è molto feroce nel combattimento. Ma quando per la quarta volta si avventò a un demone, allora, o Patroclo, giunse per te la fine della vita. Qui attenzione, guardate, ma quando per la quarta volta si avventò, qui non riesco a leggere perché non mi si vede la fotografia. Che ho? Si avventò a un demone, allora, o Patroclo, giunse per te la fine della vita. Guardate qui, Omero, ragazzi, segnatevi, sta parlando direttamente a Patroclo, vedete? O Patroclo giunse per te la fine della vita. Sta parlando direttamente a Patroclo. Questa è una cosa che Omero fa tantissimo, è una cosa strana, che per esempio non abbiamo mai trovato nella letteratura moderna. Nel fantasy, in Harry Potter, nel Signore degli Anelli, questa cosa qua non c'è. Non ci si rivolge a un protagonista, eh? Qui Omero si rivolge direttamente a un protagonista. Ti veniva incontro Febo nella violenta lotta in tutta la sua tremenda potenza. Ma l'eroe non lo scosse avanzare in mezzo al tumulto, cioè non l'ha visto avanzare in mezzo alla guerra, perché l'affrontava avvolto da una folta nebbia. C'era della nebbia, per cui non vedeva bene, eh? Patroclo non vede Febo che sta arrivando, perché? Perché c'è la nebbia. Si fermò dietro a lui e lo colpì sul dorso e sulle larghe spalle con la palma della mano. Gli si stravolsero gli occhi. Febo a pollo, eh, ovviamente. Dal capo gli fece cadere Febo a pollo l'elmo. Ok? Febo a pollo fa cadere l'elmo a Patroclo. E rotolava la... sculandone sotto i piedi dei cavalli con il suo pennacchio e la visiera. Vabbè. I crini del cimiero si sporcarono di sangue e di polvere. Il cimiero è nata però per indicare l'elmo. Ah, in passato non era ammissibile che si insudicasse, che si sporcasse così con la chioma equina al suolo. La chioma equina è la chioma del cavallo, eh? Che lui ha sull'elmo. Perché l'elmo, ragazzi, è fatto con un po' di peli di cavallo, eh? Ma proteggeva la testa e la fronte piena di grazie di un guerriero divino di Achille. Sì. Ma allora Zeus concesse a Ettore di portarla al suo capo. Era vicina però la sua fine, eh? È vicina la fine di Patroclo. Quando Apollo, quando Febo a pollo, scende in mezzo alla battaglia, è vicina la morte di Patroclo. Ed ecco, di tutta gli spezzò fra le mani la lancia dalla lunga ombra. La lancia pesante, grossa, massiccia, armata di bronza in punta. Un'arma molto pesante e molto difficile da subire. Poi, data a colla, gli crollò a terra con la cinghia lo scudo che arrivava ai piedi. E gli sciolse la corazza il sovrano figlio di Zeus, Apollo. Cosa fa sempre? Apollo scioglie la corazza, eh? Scioglie la corazza. Capite che Patroclo è sconvolto perché prima non ha visto arrivare il suo nemico che lo attacca. E poi gli scioglie la corazza, gli distrugge la corazza. Lo stordimento lo prese e gli si slegarono le belle membre. E lui restò lì, ballordo. Restò stordito, eh? Gli si slegarono le belle membre. Cioè, vuol dire, le braccia gli sono state slegate. Per cui non aveva più intorno l'armatura. Era debole. Patroclo era senza l'armatura. L'armatura. E quindi era in pericolo senza l'armatura. Capite? Andiamo nella pagina successiva. Allora, di dietro, sulla schiena, lo colpì da vicino con l'asta appuntita. Un uomo, Dardano. Eh, Dardano era fondatore della città. Vabbè, insomma, che poi sarebbe diventata Troia. Perché un uomo di Troia. Per cui è senza l'armatura. Cosa ha fatto Febo? Gli ha tolto l'armatura. E un troiano l'ha appunto. In mezzo alle spalle. Chi era questo troiano? Euforbo, figlio di Pantò. Vabbè, che se ne frega. Che batteva i suoi coltanei nel tirare di lancia. Ok, vabbè, lasciamo perdere questa parte qui. Fu costui, andiamo un po' che avanti. Fu costui il primo che ti vibrò un colpo. O Patroclo, valoroso, Auriga. Ancora una volta, segnate. Omero si sta rivolgendo direttamente a Patroclo. Sta parlando direttamente con Patroclo. Con Patroclo, vedete. Fu costui, questo uomo, questo Euforbo, il primo che ti ha vibrato un colpo. Cioè, che ti ha dato un colpo forte. Perché Febo non gli aveva tirato un colpo. Gli aveva semplicemente tolto l'armatura. Gli aveva, prima di tutto, dato un colpo sull'elmo. E gli usciva un po' di sangue. E poi gli ha tolto l'armatura. Invece, il primo che gli dà un colpo pesante, quando non ha più l'armatura, è questo Euforbo. Vedete, O Patroclo, valoroso Auriga. Auriga è quello che guida il carro. In questo caso, un carro da guerra. Ma non ti abbatteggia. Questo colpo non è stato così forte da abbatterlo. Patroclo comunque è un guerriero molto forte. Per cui ha resistito ancora a questo colpo. Attenzione su una cosa, ragazzi. Questo O Patroclo è un complemento. Scusate, è un modo che utilizza l'epica classica. Che si chiama vocazione. Si chiama assolutamente vocazione. Vocazione vuol dire chiamare qualcuno. Invocare qualcuno. Quando ci si rivolge a qualcuno, si fa una vocazione. E infatti così è andata. Si ritirava di corsa a confondersi fra la massa, strappando via dal corpo la lancia di Frassino, senza avere il coraggio di affrontare Patroclo, ormai disarmato in mezzo alla strage. Patroclo, prostato, prostrato, cioè in ginocchio, dalle percossa, perché sono le botte, del dio, quindi di Apollo, e dal colpo dell'asta, si ritraeva indietro tra le file dei suoi, cercando scampo alla botte. Cosa fa? Patroclo scappa. Si nasconde. Abbiamo visto, si nasconde, prostrato dalla percossa del dio, quindi dalla botta che Apollo, che è il dio, gli ha dato sull'elmo, e dal colpo dell'asta che appena ha ricevuto. Si ritrae indietro e quindi scappa. Cosa fa Ettore? Attenzione. Ettore, appena vide Patroclo, ritirarsi ferito, com'era dall'acuto bronzo, subito gli venne di tra le schiere accosto, cioè gli va vicino, gli va vicino, e lo ottava con l'asta al basso ventre. Prende l'asta e lo tocca nel basso ventre, cioè intorno allo stomaco, e gli cacciò la punta di metallo da parte a parte. Cosa vuol dire? Prende l'asta, Ettore, la infila, in modo che entra da una parte del corpo ed esce dall'altra. Diciamo che ragazzi, Omero è molto cruento nel descrivere, molto molto cruento. Vedete? mette una, mette una, l'asta, entra da una parte ed esce dall'altra. La punta di metallo, beh, non gli fa, l'ha ammazzato, eh. Cosa fa Patroclo? Ovviamente stramazzava a terra con strepito, vuol dire, cade a terra con fatica, eh, e gettò un grande sgomento tra l'esercito, anche io, cioè getta una grande paura, perché ovviamente Patroclo sta cadendo, morto, praticamente. Era come quando un leone vince nella lotta un indomido cinghiale, eh. Come un leone che ha vinto contro un cinghiale. Utilizza un paragone. Omero utilizza tantissimi paragoni. Questo è uno dei tanti paragoni che utilizza Omero. Ecco, si battono là sulla cima del monte, sì, si combattono là sulla cima del monte, eh. Altere e Superbio, vabbè, qui lasciamo perdere, per il possesso di una piccola sorgente d'acqua. Tutte e due vogliono bere. Eh. Anche Patroclo vuole bere, vuole bere, eh. Sta morendo, per cui istintivamente vuole andare a prendere l'acqua. E alla fine il leone abbatte a viva forza il lungo rantolo d'altro. Alla fine il leone vince col cinghiale, sta facendo un paragone. Esattamente come il leone che batte il cinghiale, così Ettore, con un colpo di lancia, a brevissima distanza, toglieva la vita al prode Patroclo, dopo tanta strage di Troiani. Quindi con un colpo di lancia, a brevissima distanza, cioè veloce, vicino all'altro colpo di lancia che ha dato, toglie la vita. E a lui, con aria di trionfo, rivolgeva parole. Eh. Vediamo cosa dice Ettore a Patroclo. Patroclo, Patroclo, certo tu credevi di saccheggiare la nostra città, di rendere schiave le donne troiane, di menarle sulle, menarle vuol dire portarle, portarle sulle navi nella terra dei tuoi padri. Povero illuso. Ma in loro difesa si sono lanciati di corsa in campo i cavalli di Ettore. Di Ettore? Sì, sono qua io, Ettore che sta parlando. Campione di lancia tra i battaglieri troiani, a tener loro lontano il giorno della schiavitù. E te qua mangeranno gli avvoltoi, infelice, pur con tutta la sua prodezza, non ti è venuto in soccorso Achille. Non ti è venuto in soccorso Achille. E forse laggiù alla partenza ti faceva tante raccomandazioni. Non tornare, sai, o Patroclo alle navi, prima di squacciare a Ettore sul petto la tunica insanguinata. Così penso ti ha detto. Guardate, questo è un lungo discorso che fa Ettore a Patroclo. Nonostante Patroclo sia praticamente morto. Questa è una cosa tipica dell'epica antica. Si fanno tantissimi discorsi, tantissimi discorsi anche, alle persone che stanno morendo. Ovviamente è una cosa non reale, perché non ha senso che Ettore si metta a parlare con Patroclo quando lui sta morendo. Qual è il senso di tutto questo? Il senso è che Patroclo, scusate Ettore, vuole essere visto, viene descritto da Omero come un grande eroe che ha vinto, ha sconfitto il suo nemico e quindi gli fa un discorso di vittoria. Questo è un discorso di vittoria, è un discorso di superiorità. Così penso ti ha detto e riusciva o sciocco a convincerti. Andiamo all'ultima parte. Giriamo la pagina. E a lui, senza più forze, dicevi, o Patroclo guidatore di cavalli, vantati pure forte ormai, sta parlando senza forza ormai a Patroclo. Vantati pure forte, a te lo sai, è andato la vita, la vittoria, Zeus, Cronide e Apollo. Vabbè, sono stati loro ad abbattermi con facilità, sono stati loro, lo so, a disarmarmi. Ah, qui è Patroclo che sta parlando. Attenzione, Patroclo che è morente, morente, quindi in punto di morte, sta rispondendo alle parole che ha detto Ettore. E lo sgrida, gli dice, vantati pure forte, già, comodo. Te ti hanno fatto vincere Zeus, Cronide e Apollo, ti hanno fatto vincere le divinità, gli dèi, sei stato forte, non perché sei stato forte tu, ma perché se non c'era Apollo, Febo, vi ricordate, cosa mi hanno letto prima, non sarebbe morto, probabilmente Patroclo. Sono stati loro ad abbattermi con facilità, sono stati loro, lo so, a disarmarmi, infatti è vero, avversari come te, anche se mi affrontavano in venti, tutti sarebbero caduti qua, atterrati sotto la mia lancia. Cosa fa Patroclo? Dice, ah, se tu non avessi avuto l'aiuto degli dèi, saresti morto tu, perché io sono più forte di te. Vedete, questo dialogo, che è un dialogo irreale, inverosimile, è la lotta di due persone, due grandi eroi, ognuno dei due vuole dire che è più bravo dell'altro, eh? È stato il destino funesto con il figlio di Latona, vabbè, a darmi il colpo mortale, e tra gli uomini è un forbo, quel soldato che gli ha dato il colpo, Tu sei arrivato terzo a finirmi, cioè sei arrivato alla fine solamente per ammazzarmi, ma non sei tu che mi hai ammazzato, sono stati altri. E un'altra cosa ti voglio dire, e tu mettitela bene in mente, guardate come sta parlando Patroclo, neanche tu stai certo ancora molto da vivere, ma già ti sta accanto alla morte l'inesorabile fato, gli fa una previsione, eh? Una previsione, gli dice anche a te resta poco da vivere, già la morte ti avvicina, eh? E l'inesorabile fato, fato, è una parola che indica il destino, segnatevi fato uguale destino, cadrai per mano di Achille, Achille ti ammazzerà. Patroclo fa una profezia contro Ettore, vedremo se questa profezia è avvenuta davvero. Allora in questa parte vorrei farvi notare questo dialogo che c'è fra i due eroi, ripeto, uno che sta attaccando l'altro, l'altro che sta morendo, ma nonostante questo, due eroi parlano, ovvio che non è vero, perché uno in punto di morte non può essere così lucido, così chiaro a fare un ragionamento del genere, no, assolutamente non può essere. Così parlava, e la morte la fosse, mentre diceva queste cose, la morte l'ha preso. L'anima volando via dalle membre, se ne andò alla casa di Ade, Ade è Dio dell'inferno, quindi sta andando, vedete, nel regno dell'oltratomba, e lamentava la sua sorte nel lasciare la forza virile e la giovinezza. Ma anche dopo morto, gli diceva lo splendido Ettore, Ettore parla a Patroclo, anche se è morto, se ne frega che è morto, capite? Patroclo, perché mi predici la fine? Chissà che Achille, il figlio di Teti, delle belle chiome, vabbè, non perda la vita prima lui sotto i colpi della mia lancia. Lui gli dice, eh, chi è che dice che Achille mi ammazza? Magari sono io che ammazzo Achille, eh? Così parlava, e dalla ferita estrasse la picca, vedete, un'arma simile alla lancia, di bronzo, calcando con il piede il cadavere, e lo respinse lontano a schiena in giù. Cosa fa? Ettore, dà un calcio, fondamentalmente, a Patroclo, e gli manda giù la schiena, gli toglie l'arma, e gli dà un calcio, eh? Capite che insomma, è molto molto, vedete che è molto molto occorrente nel descrivere la scena Omero. Allora, io vi chiedo di fare gli esercizi a pagina 118, che poi correggeremo insieme tutti gli esercizi a pagina 118, eh? Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Non fate l'esercizio sette. Vediamo, quando Patroclo viene colpito da Ettore, cade a terra? Sì, no, fate anche, anche, anche la, l'esercizio sette, però togliete la sequenza riflessiva, cioè semplicemente, immagina le reazioni dei compagni di Patroclo e descriverle. Non serve in una sequenza riflessiva. Fate tutti gli esercizi, e, li fate per, ehm, lunedì, prossimo, in cui faremo la correzione di questi esercizi. e intanto avremo anche l'altro brano che vi ho spiegato, che vi spiegherò in settimana. Va bene? Bene, e vi auguro buona giornata e buon lavoro. e vi auguro buona giornata e buona giornata e buona giornata. Grazie.